Un cantiere iniziato nella primavera 2020 in pieno lockdown e che vede la fine agli sgoccioli del 2021 dopo oltre 16 mesi. ANAS ha di fatti annunciato di aver completato i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla variante 219 di Gubbio e Piandassino per un investimento complessivo di 13 milioni di euro. Gli interventi hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione degradata, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità con stabilizzazione a calce e cemento e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull'intera piattaforma stradale. In alcuni tratti sono stati inoltre realizzate opere idrauliche per preservare le fondazioni migliorando il drenaggio dell'acqua piovana e di falda. Complessivamente sono stati risanati 22 chilometri di carreggiata di cui 15 virgola 6 chilometri riguardano l'intero asse principale a due corsie tra branca e Gubbio e 6 virgola 4 chilometri riguardano le rampe dei vari svincoli. I lavori sono iniziati ad aprile 2020 durante la prima ondata pandemica e sono stati sospesi durante la stagione invernale 2020-2021 al fine scrive ANAS di eseguire gli interventi a regola d'arte in condizioni meteo favorevoli. La cantierizzazione è stata poi organizzata per brevi tratti successivi in accordo con il comune di Gubbio e gli enti locali al fine di minimizzare i disagi al traffico, disagi che soprattutto nel periodo estivo sono stati assai militati anche se non soprattutto grazie alla bretella interna realizzata al finanziamento di sette aziende del territorio che da via Perugina sbucava direttamente in via Parruccini e che ha contribuito a snellire in maniera corposa il traffico locale cittadino. L'intervento di risanamento della SS 219 rientra nel piano di manutenzione programmata avviato da ANAS sull'intera rete stradale di competenza in Umbria per un valore complessivo di oltre 860 milioni di euro tra lavori ultimati in corso e di prossimo avvio. Il piano interessa anche le strade ex provinciali e regionali trasferite ad ANAS tra cui la SS 452 della Contessa dove ANAS ha ultimato nel 2020 i lavori di risanamento della pavimentazione lungo tutto il tracciato compreso il ripristino della segnaletica orizzontale, sostituzione della segnaletica verticale e riqualificazione delle piazzole di sosta.